L'Atletica Gavardo 90 Libertas, approfittando dei campionati regionali di società di cross lungo tenutisi a San Carlo di Gavardo, ha presentato il team assoluti per la stagione agonistica 2010. Sei campioni valsabbini che per iniziare bene hanno conquistato l'oro regionale di società per il secondo anno consecutivo, mettendo le basi per una stagione agonistica di grande soddisfazione. Il team è composto dai quattro campioni del 2010, Rashidi Armoni, punta di diamante del gruppo, oro ai regionali di Arcisate, Tito Tiberti, argento ai campionati italiani Libertas di cross, Alessandro Rambaldini, il Rambo delle corse in montagna, l'ottimo Karim Gliarmoni e le due nuove leve Valsabbine, Simone Pessina e Salvatore Ciconte. Un ventunesimo anno questo all'insegna di sano agonismo sportivo per il neo eletto presidente Antonio Gugole, che è ereditato dall'uscente Paolo Salvatori, una società forte di 40 tesserati assoluti e più di 260 attriti iscritti in tutte le categorie. Prossimi appuntamenti importanti, i campionati italiani, che si terranno domenica, 27 febbraio, a San Giorgio di Legnano, la maratonina di Cellatica, mezza maratona a carattere nazionale che si terrà il 6 marzo e la 3 campanile di vestone, la mezza maratona di corso in montagna organizzata con passione dagli uomini dell'Atletica Gavarro 90 che si terrà il 3 luglio.